Un'iniziativa che nasce fondamentalmente per dare nuove opportunità ai ragazzi del nostro territorio. Il percorso sarà un percorso lungo, tre mesi, atipico rispetto a quella che è la formazione italiana. Sarete voi a istruirvi in base agli obiettivi, quindi molta della riuscita di questo corso aspetta a voi. Oltre ad ascoltare, ci sarà poi una fase di approfondimento, di studio, di sperimentazione, voglia di sporcarvi le mani. Io vi auguro un grande in bocca al lupo e spero che abbiate questa voglia di superare lo sconosciuto, perché tante delle cose che si dovevano andare a fare sono sconosciute e quindi sono sempre viste con un po' di fidezza. Quindi un grande in bocca al lupo a tutti voi e spero veramente che tra tre mesi possiate essere un poco più consapevoli delle vostre capacità e della capacità vostra stessa di riuscire a superare le difficoltà. In bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie.